Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale e tv siti e il governo Conte Bis è caduto a causare la crisi di governo il leader di Italia Viva Matteo Renzi ora incertezza sul futuro politico del paese e nonostante la crisi di governo il ministro della salute Roberto Speranza ha prorogato ieri lo stato di emergenza per il covid-19 fino al 30 aprile 2021 ed è crisi incertezza politica anche al comune di Torre del Greco dopo una settimana dall'azzeramento ancora senza giunta comunale in tanti criticano la decisione del primo cittadino Palomba e chiedono le sue dimissioni anche i cittadini di Torre del Greco sono in ansia e preoccupati per il futuro politico della città in tanti si chiedono se questo fosse stato il periodo adatto per una corsa alle poltrone rispetto a preoccupazioni dei problemi seri della città e il consueto punto sull'emergenza covid nel Vesuviano dove continuano a diminuire i contagi a Torre del Greco in conclusione la cronaca con i carabinieri che hanno arrestato cinque persone che coltivavano marijuana in un terreno abusivo nei pressi di Bosco Reale e sempre in tema di lotta alla droga la guardia di finanza ha sequestrato 11 chili fra cocaina e oppio all'aeroporto di Capodichino viaggiavano dalla Francia su valigie da stiva finisce il governo Conte bis ieri Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministri Italia Viva del governo si è aperta così una crisi di governo che deve essere ancora ufficialmente formalizzata in piena emergenza sanitaria a far scattare la miccia è stata la gestione del recovery fund lo strumento comunitario fortemente richiesto al governo per contrastare la crisi economica provocata dalla pandemia Conte in una prima fase ha ipotizzato una cabina e regia guidata a Palazzo Chigi con l'ausilio di alcuni ministri sei super manager e una squadra dei tecnici l'idea però ha creato tensioni nella maggioranza ieri sera aprendo il consiglio dei ministri il premier ha confermato di aver accettato il passo indietro di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti le parole sono come pietre parla di grave responsabilità e notevole danno al paese prodotto da un gesto che non può essere sminuito afferma di aver cercato fino all'ultimo utile il dialogo ma il terreno è stato disseminato di mine il premier Giuseppe Conte non ha però dato alcun cenno ai dietrofront oggi PD e Movimento 5 Stelle riuniranno i loro vertici per valutare la crisi le scelte possibili sembrano due o di mettersi per aprire il tentativo di un nuovo governo o andare in parlamento e verificare chiedendo la fiducia alla camera la maggioranza lo stesso presidente della repubblica mattarella ha chiesto una soluzione della crisi in tempi brevi se sceglierà davvero lo sciodano in parlamento l'obiettivo potrebbe essere ottenere sì da una maggioranza larga e solida con un appello ampio a sostenere il lavoro del governo nel caos politico di questi giorni inizia a prendere corpo il dpcm che conterrà le nuove restrizioni delle prossime settimane in attesa del testo del provvedimento che dovrebbe arrivare nelle prossime ore il consiglio dei ministri ha approvato lo stato di emergenza fino al prossimo 30 aprile il ministro della salute roberto speranza il commissario per l'emergenza domenio quarkuri parteciperanno alla riunione tra stato e regioni per discutere dei provvedimenti oltre che del piano vaccini da regolare infatti il flusso dell'arrivo delle nuove dosi di pfizer biontech e di moderna fresco di delibera per quanto concerne le misure anticontagio pare essere confermato il divieto di spostarsi tra le regioni anche in zona gialla lo stop dovrebbe avere efficacia fino al prossimo 15 febbraio piuttosto che il 5 marzo data inizialmente indicata nelle ipotesi al vaglio delle istituzioni inoltre si pensa a riaprire i musei nelle zone gialle proporrò afferma il ministro dei beni culturali dario franceschini che i musei riaprano nelle zone gialle almeno nei giorni feriali è un servizio ai residenti ed un segnale per i cittadini il governatore della regione campania vincenzo de luca non perde occasione per richiamare i cittadini già negli ultimi giorni registriamo un incremento di ricoveri nelle nostre strutture sanitarie denuncia il governatore ribadendo che la zona gialla non è sinonimo di liberi tutti una settimana di comportamenti responsabili avverte de luca può trasformarsi in mesi di chiusura a una settimana dall'azzeramento della giunta comunale torre del greco ancora priva dell'esecutivo una situazione che giorno dopo giorno delinea una sempre più evidente crisi a palazzo baronale con una maggioranza sfaldata ed il sindaco palomba che non riesce a dirimere in rammatassa sulle nomine degli assessori basta temporeggiare e questo ultimatum lanciato ieri dai consiglieri di maggioranza piccirillo brancaccio gargiulo guarino gramegna pomposo e caldarola nel comunicato portato all'attenzione del primo cittadino hanno ricordato che in questo periodo serve un esecutivo che decida su questioni essenziali per la città in particolare preoccupa il bilancio ad approvare il piano di assunzioni del comune i consiglieri definiscono inspiegabile ed incomprensibile l'attuale assenza della giunta in un periodo tanto complesso in seguito alla missiva palomba ha deciso di convocare una riunione di maggioranza per stasera alle ore 19 e 30 nell'aula consigliare il palazzo baronale all'ordine del giorno i punti messi in evidenza ai consiglieri ma sulla carta non si parla delle nuove nomine per l'esecutivo più drastico il movimento politico articolo 1 che ha chiesto le immediate dimissioni del sindaco rimarcando l'attacco a palomba con una citazione biblica fuori mercanti dal tempio una richiesta condivisa anche dal leghista luigi mele se il sindaco palomba incapace di nominare la giunta si dimetta subito questo il suo appello i torresi continua non meritano questa amministrazione litigiosa capace solo di gestire incarichi polemiche a parte l'ampas della maggioranza rischia di aggravare la condizione di una città che già affanna sotto i colpi della pandemia e della crisi economica anche i cittadini sono fortemente preoccupati a causa dell'incertezza politica e unanime il pensiero che in uno stato di emergenza tanto grave non trovano posto screzzi politici e corse per le poltrone bisogna fare qualcosa per questa benedetta città perché ci sta la dosi occupazione che sta mangiando tutti e quindi povera gente che non riesce nemmeno non pensiamo il pensionato il pensionato prende la pensione fino a quando la può prendere ma tutti questi ragazzi che stanno a spasto senza fare niente lavoriate bisogna fare qualcosa per questa benedetta città quindi le torre del greco la vede in un momento di stallo da cui dovrebbe riprendersi al più presto io spero che si riprenda e certamente che i politici ci metteranno una mano se sono politici incompetenti dovrebbero andare a casa non perdere più tempo bisogna mettere le persone veramente esperte che diano a questa città qualcosa veramente che possa dare il beneficio per tutti quelli di assessori pure quando c'erano è come se non c'erano ma figuri da testa saremo ancora più pieni di spazzatura io pago 400 euro all'anno di spazzatura e quando scendo di casa devo fare i salti per camminare sulla spazzatura purtroppo questo è il popolo torrese che si sa tutti questi sono bruci e non fa niente ci hanno aumentato il spazzatura aumentano quelli si lamentano tutti qua però non fanno niente io mi auguro che quelli che verranno saranno molto più intraprendenti nel aggiustare quelle che quelle cose che non vanno a questo paese purtroppo in questa situazione di pandemia ognuno trova la scusa adatta per fare politica sperando che veramente ci sia l'impegno di tutti quanti nel migliorare nel migliorare la nostra città lei crede che in questo momento torre del greco sia allo sbando senza una giusta guida sia politica ma anche sociale appunto in un periodo come quello della pandemia eh sì come ho detto tante cose potevano essere fatte in modo migliore ehm innanzitutto spreco di denaro anziché aiutare la 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 povera gente che non ce la fa ad andare avanti e questo è una delle lacune che è stata fatta diciamo nei giorni natalizi e sappiamo per quanto riguarda le spese delle luminarie e penso anche tante altre cose si potevano risparmiare i soldi per aiutare a chi no veramente non ce la fa ci vogliono molti nuovi non sempre gente che sta da 40 anni alla vent'anni che stanno sempre sono sempre i soliti è sempre il stesso potere allora un certo momento o bisogna essere nuovo o loro si devono schiarire le idee per fare cose nuove questo è il programma e in particolare su cosa è carente eh questa amministrazione cosa denuncia ma è fermo le cose come stavano quando si sono insediate così stanno adesso non è che hanno migliorato in qualcosa io penso che la maggior parte della giunta e comunque di chi sta al governo di una città o di uno stato dovrebbe fermarsi un attimo a pensare capisco che è difficile fare tutte le cose per bene e che quindi qualcuno delle forze politiche dell'opposizione non sia d'accordo ma è il momento giusto per chiamare una crisi o sarebbe meglio calmarsi un attimo e cercare di portare avanti le emergenze e le necessità in un momento simile e il discorso non vale solo per torre che è una città con enormi problemi enormi problemi ma vale un po per tutto quindi possiamo facilmente generalizzare penso che tipo di problemi in particolare denuncia a torre del greco la giunta comunale o chiunque sia preposto per quello non ce la fa a stare dietro ai cittadini di torre che sono molto sporchi non riescono assolutamente a capire dove buttare la spazzatura il servizio c'è basta telefonare e vengono ad accoglierlo perché non lo fanno allora la giunta cosa fa per evitare che i torresi diano il meglio di sé a sporcare la città io quello che dico sempre torre annunziata ed ercolano sono più puliti di torre come mai cosa si aspetta dunque in questi giorni un po di buon senso da parte delle forze politiche che mettano da parte penso che la giunta comunale non era il momento di dimettersi in questo momento tutto particolare e quindi penso che dovevano trovare un accordo e governare fino a quando la pandemia non era trascorsa non era passata che così abbiamo solo aggravato la situazione ora non so gli sviluppi della situazione politicamente come faranno ma devono trovare un accordo il più presto possibile proprio per governare la città che è un po' allo sbando non solo per la nettezza urbana ma per tanti altri motivi e cosa si aspetta dalle istituzioni comunali a questo punto nei prossimi giorni prima di tutto che si riunisca la giunta si elega la giunta comunale perché abbiamo bisogno che il paese la città venga governata non è possibile lasciata è lasciata da parte tutti gli interessi personali di poltrune e pensare solo al bene della città e dei cittadini 14 nuove guarigioni sono state registrate nella giornata di ieri a Torre del Greco certificati anche 9 casi di positività al covid-19 in isolamento domiciliare muta dunque il bilancio dei contagi nella città sono 317 gli attuali positivi di cui 27 ricoverati e 290 posti in isolamento domiciliare 2420 guariti e 79 deceduti sono 58 i cittadini di castellammare di stabio risultati positivi al covid-19 nelle giornate del 12 e del 13 gennaio 2021 30 di essi presentano sintomi lievi della malattia sono stati lavorati complessivamente 276 tamponi i guariti certificati nello stesso periodo sono 46 tra di essi una bambina di 5 mesi e 6 ragazzi tra gli 11 ed i 15 anni sono 3047 contagiati totali dall'inizio della pandemia a castellammare di cui 41 deceduti a Torre annunziata sono 32 nuovi casi di contagio da covid-19 registrati ieri al contempo si accertano anche 5 guarigioni sono 248 i cittadini attualmente positivi 240 posti in isolamento domiciliare e 8 ricoverati sarà 1638 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria di cui 1.359 guarite e 31 decedute in dato tierna i carabinieri della stazione di Bosco Reale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e dagli arresti domiciliari emessa dal GIP del tribunale di Torre annunziata hanno proceduto all'arresto di 5 persone gravemente indiziate dei reati di coltivazione e detenzione illecita di sostanze superfacenti e furto aggravato di energia elettrica. Secondo quanto emesso dalle indagini condotte nel luglio del 2020 dai carabinieri gli indagati si erano illecitamente impossessati di una porzione di terreno ubicata in un'area periferica del comune di Bosco Reale dove avevano impiantato una coltivazione di cannabis. Gli indagati a turno provvedevano alla cura e al monitoraggio della piantagione che risultava anche presidiata da telecamere di videosorveglianza alimentate mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica. Nonostante le cautelle autotate i carabinieri sono riusciti ad attuare il monitoraggio dell'area mediante telecamere nascoste e ad identificare progressivamente tutti i componenti del gruppo individuando diversi ruoli ricoperti dagli stessi. Nel corso delle indagini sono state sequestrate 107 piante di marijuana sottratte al mercato illecito degli stupefacenti. In esecuzione dell'ordinanza cautelare due degli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari mentre gli altri tre sono stati tradotti presso la casa circondrariale di Napoli-Boggio Reale. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dugane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo aeroportuale di Capodichino ha tratto in arresto due cittadini di origine africana che trasportavano complessivamente 11,3 kg di droga occultati all'interno dei bagagli da stiva. I due corrieri, un 45enne e un 23enne, giunti a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stavano per lasciare l'aeroporto quando sono stati fermati e sottoposti a controllo prima di allontanarsi dalla sala arrivi. In particolare gli ufficiali addetti ai controlli non convinti delle spiegazioni ricevute ed insospettiti da ulteriori segnali di rischio hanno controllato i bagagli dei due soggetti rinvenendo 569 ovuli contenenti cocaina per un peso complessivo di 8,3 kg e 3,1 kg di oppio all'interno di alcune bottiglie e confezioni per l'igiene intimo personale, pronti per essere distribuiti nelle piazze dello spaccio campane. L'elevata purezza dell'ingente quantitativo di droga sequestrata avrebbe consentito alle organizzazioni criminali di immettere sul mercato nazionale circa 300.000 dosi di droga per un guadagno complessivo di oltre 2 milioni di euro. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con nuovi servizi.